Piede, ultimato allineamento, la macchina entra ora nella retta opposta alle tribune, prende gradualmente velocità ed è prossima allo stacco, velocissimo dall'esterno Medlino M, rapido però anche Marlon Bypass, attaccato da Mario Tommaseo. Numero 9, squalificato. Quindi Morales, Mistraldalfa, Mario Emili che però è stato squalificato. Seconda occasione in 15 e mezzo, 28 e 8 comunque per i primi 400 metri, i 600 se ne vanno invece in 46 abbondante. Sulla retta opposta alle tribune in vantaggio Marlon Bypass, Mario Tommaseo di rincalzo, il giro se ne va in un minuto. All'esterno di Mario Tommaseo sopraggiunge Mitigo Milar, la cui scia è rilevata da Merlino OM. Ripeto, numero 9, squalificato. Interno e Master di Azzurra, poi Malligan B, Morales. Secondo passaggio di fronte alle tribune, 1,15 il primo chilometro, Marlon al comando, Mitigo all'esterno, di dentro Mario Tommaseo a largo Merlino. Poi Master di Azzurra e Malvery Street, ancora Malligan B e Mistraldalfa in coda. Morales, secondo chilometro inizia con un paletto in 14 e 9, tiene sempre il ritmo piuttosto allegro, Marlon Bypass. Nella sua scia si mantiene Mario Tommaseo, a largo Mitigo Milar sembra stanco. Nella scia di Mitigo Milar è Merlino M che però è richiesto. Lungo lo steccato, Master di Azzurra precede Malligan B. Marlon Bypass in vantaggio al 500 dal palo, 15 e 5 la penultima curva. Poi una frazione in 14 e 2 per la retta opposta alle tribune, Marlon al comando, Mario Tommaseo di rincalzo. All'esterno è Mitigo Milar, va via di lena, Marlon Bypass, non lo molla Mario Tommaseo. Poi ancora Master di Azzurra che prova a filtrare all'interno di Mitigo Milar. È fuori gioco Merlino M, ingresso alla retta di arrivo, Marlon Bypass in vantaggio. Mario Tommaseo ci prova di dentro, Marlon in vantaggio, l'attacco di Mario Tommaseo. Marlon Bypass si difende, Marlon Bypass vince su Mario Tommaseo l'eterno piazzato.